In quei giorni il Signore disse a Giosuè Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto Gli israeliti rimasero accampati a Galgata e celebrarono la Pasqua al 14 del mese Alla sera nelle steppe di Gerico Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra Azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò Gli israeliti non ebbero più manna Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan Pace a voi La quarta domenica di Quaresima Domenica Letare Rallegrati E il motivo della gioia è profondissimo È la gioia di Dio per il figlio ritrovato Così come ci ricorda, ci annuncia La parabola del Padre misericordioso O del figlio prodigo che ritorna al Padre suo Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita Era perduto ed è stato ritrovato Questo tuo fratello, dirà dopo al fratello maggiore, era morto ed è tornato in vita Era perduto ed è stato ritrovato Perciò bisognava far festa La gioia Ha la sua radice profonda Nel cuore misericordioso di Dio Che accoglie ogni figlio che torna a lui Nell'abbraccio nel perdono E restituisce questi suoi figli nella fraternità È importante Il perdono di Dio non è solo un dono alla persona che ha peccato Ma è anche un dono alla fraternità È un rimettere di nuovo i figli nella giusta dimensione della fraternità Queste due espressioni del Padre misericordioso Ci riportano alla sorgente della gioia E ci aiutano a capire perché poi San Paolo ci dice Se uno è in Cristo è una creatura nuova Perché le cose vecchie sono passate Eccole sono nate di nuove Sì, in Cristo noi rinasciamo o risorgiamo come figli E in Cristo noi rinasciamo e risorgiamo nella vera relazione fraterna In Cristo noi ritorniamo a essere figli In Cristo noi ritorniamo ad essere fratelli La festa di Pasqua è appunto la festa di chi? In Cristo Creatura nuova Ritorna a essere figlio Ritorna a essere fratello Ed è proprio la festa A cui fa riferimento nel libro di Giosuè Il Signore disse a Giosuè Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto Sì, l'infamia dell'Egitto è data dalla schiavitù Dalla sottomissione Dal rischiare di perdere l'identità di popolo che è figlio E di popolo che vive la fraternità E questa relazione filiale e fraterna è stata messa duramente alla prova nella marcia di liberazione Ma finalmente si giunge alla terra promessa Finalmente si può celebrare una Pasqua nuova La Pasqua dei figli che ritrovano nella paternità Il fondamento dell'essere fratelli e il fondamento dell'essere popolo Gli israeliti rimasero accampati a Galgara e celebrarono la Pasqua al 14 del mese Alla sera nelle steppe di Gerico Sì, ormai sono nella terra promessa Ormai la Pasqua non è soltanto la celebrazione che ricorda la liberazione La celebrazione che ti accompagna nel cammino dell'Esodo Ma è anche la festa che ti fa gioire per essere giunti alla terra promessa Forse dobbiamo recuperare questa ricchezza della celebrazione della Pasqua La Pasqua che mette in moto il processo di liberazione La Pasqua che ti accompagna nel cammino di liberazione La Pasqua che ti fa gioire per la terra raggiunta e per la coscienza di popolo ritrovato Dice ancora il testo del libro di Giosuè Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra Azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno Ecco la Pasqua che ha i suoi frutti I frutti legati alla terra che il Signore ha donato I frutti che conservano in sé i simboli della liberazione Gli azimi riportano all'inizio del cammino Quando in fretta devono celebrare la Pasqua Mangiando azimi e erbe amare e l'agnello pasquale Gli azimi riportano al percorso Quando la mancanza del pane è sostituita dal dono della manna E poi ora il frumento abbrustolito È il frutto della terra che il Signore ha donato finalmente ai Suoi figli Ma volendo un attimo vedere questo percorso A livello personale dell'uomo peccatore Del figlio che si è allontanato Dov'è per il figlio l'inizio della Pasqua? L'inizio della Pasqua è quando è lì Abrutito Che sente distillarsi in lui La manna della nostalgia della casa paterna Quando sente crescere in lui la coscienza Di una paternità che sicuramente lo può accogliere Ma di una paternità Ora che richiede un cammino Di riconciliazione Mi alzerò e andrò da mio padre Mi alzerò e andrò da mio padre E tutto l'esodo Nella suo travaglio Nella sua difficoltà Ma c'è questo cibo misterioso Che è la coscienza Che la manna ti dà di essere figlio Che può tornare alla casa del padre Di un figlio che sa Di essere sempre accolto nella casa del padre E in questo cammino La spinta è data Dalla sicurezza che il padre accoglie Ma è data anche dal dolore Del peccato commesso E della condizione di abbrutimento In cui il peccato ti ha posto Gli ebrei nella marcia Tante volte hanno nostalgia Delle egitto Invece il figlio che va verso la casa del padre Ha nostalgia Solo della casa paterna Non ha nostalgia Dell'abbrutimento in cui è caduto E cerca in qualche modo Di correre tra le braccia del padre Per togliere quella indegnità E anche per togliere La causa di quella indegnità Che è il suo allontanamento Focalizziamo anche noi carissimi La causa della nostra indegnità Nell'allontanamento da Dio Mettiamo lì l'origine del nostro peccato E lasciamo che la spinta A correre verso la riconciliazione Sia data da questa nostalgia Che è sicurezza Nostalgia della casa del padre Sicurezza che il padre ci accoglie E la festa che il padre fa A questo figlio E la gioia del popolo Che è arrivato finalmente della terra E mangia i frutti della terra Ma mangiare quei frutti Significa finalmente godere Ancora insieme in famiglia Dei doni del padre In questa Pasqua Non possiamo dimenticare Quelli che per tanti motivi Personali, sociali, nazionali Non possono mangiare Nella casa del padre I doni che Dio dà al suo popolo C'è tanta parte dell'umanità Non solo in Ucraina Ma anche in Ucraina Che vive il travaglio Di una lontananza Di una lontananza che È frutto Del peccato Del peccato Delle strutture dell'umanità Delle strutture sociali Delle strutture politiche È frutto anche Delle scelte degli uomini Ora Dobbiamo In questa domenica Pregare Perché Per tutti La Pasqua Possa essere In qualche modo Un ritornare Nella casa del padre A mangiare A mangiare Quei frutti Che sono sì Dovuti al nostro lavoro Ma rimangono sempre Un dono di Dio Quello che noi godremo Della nostra Pasqua È dono di Dio E questo dono Devono poterlo godere Tutti i nostri fratelli Pasqua per tutti Nella propria terra Pasqua per tutti Nella propria casa Pasqua per tutti In pace con Dio E in pace con i fratelli Un dono di Dio Un dono di Dio Un dono di Dio